Ecco, io direi che possiamo cominciare a parlarne con Mario Rigoni, che è uno dei maggiori studiosi di Leopardi. Lui, se non sbaglio Mario, ha cominciato a occuparsi di Leopardi da un saggio scritto e pubblicato nel 1976, da allora ne ha scritti tanti altri di saggi, ha curato anche opere di Leopardi, in particolare vi segnalo i saggi sul pensiero di Leopardi pubblicati da Aragno, ma ce ne sono tanti altri di libri. Comunque il tema della giornata di oggi è questo dell'attuale inattualità di Leopardi, perché da un certo punto di vista Leopardi è estraneo alle categorie del presente, alle categorie di pensiero che noi usiamo, ma da un altro punto di vista invece è fondamentale il suo sguardo critico sulla realtà. C'è un libretto di Agamben in cui Agamben spiega che il vero contemporaneo non è quello che si identifica to court col proprio tempo, il vero contemporaneo è quello che sta dentro e fuori il proprio tempo, perché è fondamentale diciamo questo sguardo anche dal di fuori, uno sguardo critico appunto sul presente. In questo senso credo che Leopardi ci sia assolutamente prezioso. Allora, con Rigoni io comincerei con un tema subito. Diciamo che ecco, io tra l'altro ve lo dico proprio, io sono d'accordo su tutto quello che l'ho scritto su Leopardi. Prima scherzavamo, gli dicevo su una cosa dissento, ma in realtà è un falso dissenso. In questo libro secondo me lui è un po' indulgente, è una mia opinione, mi sembrava un po' indulgente con il saggio di Tony Negri su Leopardi. Ma insomma, perché trovo che c'è tra Tony Negri e Leopardi c'è una estraneità linguistica, stilisconcettuale, ecco. Cioè il solo fatto, io ne ho letto metà di quel saggio, vi dico la verità, ma è come se io dovessi leggere un saggio, non so, di Marco Travaglio su Dante. Cioè voglio dire, non mi verrebbe neanche voglia, ecco. E tra l'altro è un saggio secondo me assolutamente fabbiante quello di Tony Negri, in cui a un certo punto dice che il nulla di Leopardi è la sostunzione della vita al capitalismo e quindi espellendo la parte tragica del pensiero di Leopardi, perché Leopardi non parla solo del nulla del capitalismo, ovviamente. Ma insomma, questo poi ci siamo detti è un falso dissenso, adesso ce lo spiega meglio. Ma soprattutto vorrei incalzare Mario Rigoni su un tema. Allora lui è stato il primo in Italia a opporsi risolutamente all'immagine di un Leopardi progressivo. C'era stato un libro anche importante di Cesare Luporini, filosofo su Leopardi progressivo. Ecco, lui invece no, oggi questa cosa secondo me è ampiamente superata, ma Mario Rigoni è stato uno dei primi a combatterla con una certa intensità e tenuta argomentativa. Perché? Perché Leopardi non è progressivo, ma non è neanche reazionario, ovviamente. Soltanto che Leopardi non è edificante, non è utilizzabile. C'è un famoso dialogo tra Erzen e Mazzini a Londra, in cui a un certo punto Mazzini se la prende con Leopardi, dice sì, sì, io lo ammiro, però non riesco a utilizzarlo. Cioè un politico non sa utilizzare Leopardi, perché appunto il suo scetticismo non è una cosa politicamente spendibile. Ecco, e Mazzini era infuriato, a un certo punto poi non sapeva più che dire, perché Erzen, che era il populista russo, figura straordinaria, difende Leopardi. A un certo punto, questo tu non l'hai detto nel dialoghetto, ma c'è una parte esilarante in cui Mazzini, infuriato, fa ma poi questo Leopardi è sempre stato per i fatti suoi, non ha minimamente preso parte alla rivoluzione del 1848, il dialogo si svolge nel 1853. Ed Erzen fa, mi dispiace che era Mazzini, ma era già morto nel 1848. Ecco, vi rendete conto, ecco, questo è il dialogo con Mazzini. Allora, dico, quindi Leopardi non è progressista, non è reazionario, ma non è neanche edificante o utilizzabile politicamente. Ecco, adesso però Mario Rigoni ci spiega bene perché non è politicamente utilizzabile e perché non si può in nessun caso definire progressivo. A te la parola. E trascuriamo Negri? Sì. Trascuriamo? Sì. No, perché volevo precisare che io in realtà ho dedicato al libro di Negri, che era stato, diciamo, anche giustamente, sotto un certo profilo ignorato da tutti, per equanimità, nonostante la mia estraneità assoluta, la sua ideologia di allora, di adesso, di sempre, per rilevare due cose che gli andavano riconosciute, diciamo, uno, e che mi aveva anche un po' sorpreso, anche se si spiega con la sua formazione rigidamente, anzi si vuole cupamente accademica, e cioè la sua conoscenza puntuale di tutta la bibliografia leopardiana. e poi, perché aveva scritto in questo libro, sul quale io non avevo altro che di sensi, come anche ho detto, vi era un capitolo, il primo, intitolato, mi pare, Leopardi europeo, che era un buon capitolo, insomma. Tutto il resto mi sembrava, e mi sembra, un delirio, come è, nello stile. Primo capitolo, quindi, fermatevi lì, fermatevi lì. Dunque, per quanto riguarda poi il progressismo di Leopardi, dunque, oggi credo sia accettato da tutti il fatto che questa interpretazione in valsa a partire dal libro di Lupo Orrini del 1947 e da quello anche di Walter Binni dello stesso anno, la nuova poetica leopardiana, è una deformazione quasi grottesca del pensiero di Leopardi, perché è evidente, ad apertura di pagina, che Leopardi non può minimamente essere iscritto in questa corrente progressista nella quale questi critici e tutti i loro discepoli, con residui che arrivano fino ad oggi, hanno voluto fare. Mi viene in mente una semplice osservazione di Leopardi, ma sono migliaia, nello Zibaldoni, che dice che l'uomo non è un animale perfettibile, ma corrottibile. Già in questa semplicissima, ma efficacissima formula si capisce che per Leopardi la storia non è altro che un processo di decadenza. Una decadenza i cui contorni sono chiari, la cui origine, le cui tappe lo sono molto meno, perché l'idea che Leopardi ha di questi successivi momenti può, come dire, identificarsi in varie fasi, ma che, volendo estremizzare un po' con le cose, ma seguendo la lettera Leopardi, risale addirittura al peccato di Adamo. Si potrebbe dire, l'ho anche detto, insomma, che la colpa di Adamo segna la nascita dell'aufklärung. E' interessante osservare, non so se si sappia, che il peccato di Adamo, stranamente, è stato, non solo nell'opinione volgare, ma anche nella più alta speculazione filosofica letteraria, considerato come un peccato di natura sessuale, quando nella Bibbia non c'è assolutamente nulla che faccia pensare alla possibilità di un'interpretazione del genere. Eppure questa è stata l'interpretazione dominante dall'antichità, da filone ebreo fino a Kierkegaard. Ora, Leopardi, e in questo d'accordo, diciamo così, involontariamente, e comunque in una prospettiva opposta con Hegel, ritiene che la colpa originaria consiste in un peccato di conoscenza. Adamo, messo di fronte ai due alberi, quello della vita e dell'immortalità e quello della conoscenza, sceglie l'albero della conoscenza e in questo modo, voglio dire, ne subisce, insomma, tutte le conseguenze che sono l'infelicità e la morte. Anche per Hegel il peccato di Adamo è un peccato di conoscenza, non ha niente a che fare col sesso, ma per Hegel questa colpa di Adamo è una felixculpa, è l'uscita dal paradiso, diciamo, della vita animale e l'ingresso della storia. Quindi, in Hegel, il peccato di Adamo rientra in una dialettica che ammette, appunto, la razionalità, il progresso e porta Hegel a dire una delle cose più mostruose che siano mai state dette, cioè, naturalmente, Hegel era un genio, intendiamoci, voglio dire, un pensatore di straordinaria importanza, ma questa affermazione che tutto il reale è razionale e il razionale è reale è una delle cose più insensate e più infondate che si possono dire ed è sotto gli occhi di tutti, voglio dire, l'assurdità di questa... Si potrebbe dire piuttosto che l'irrazionale è reale, è l'opposto. Certo. E quindi io, così, ho cercato di mostrare che, appunto, quello che, d'altra parte, era evidente ad apertura di pagine dello Zibaldoni o di qualunque altra pagina leopardiana che questa interpretazione progressistica era assolutamente infondata. Poi, non fosse bastato questo, è perfino emersa sul mercato antiquario una lettera inedita di Leopardi, questo è successo negli anni 90, tra l'altro è stata comprata da un mio amico e poi ceduta al Centro Nazionale dei Sudi Leopardiani, una lettera di Leopardi a Charlotte Bonaparte nella quale, appunto, lui esplicitamente dice l'età progressiva della società di Mantaresa Poin. Ma, voglio dire, era solo proprio la ciliegina sulla... Non c'era bisogno, ecco, diciamo, ma è stata una conferma proprio ad verba, insomma, no, perché ad opera proprio questo termine. Non so. No, 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 ma sì, quindi faceva bene a diffidarne Mazzini a questo punto. Sì, sì, sì. Faceva bene a diffidarne, ecco. Nel saggio, in questo libro di saggi di Mario Rigoni c'è un punto davvero per cui un lettore può avere un sussulto perché lui suggerisce un parallelismo tra Leopardi e il Marchese di Saad. Marchese di Saad che forse Leopardi non aveva mai letto, ecco. Però effettivamente è un parallelismo che si fonda su vari punti, su varie analogie. Ovviamente l'idea di natura, la natura come qualcosa di ostile, di nemico, il dio del male, Arimane, c'è un principio del male che governa tutto quanto. Poi, una cosa che hanno in comune Saad e Leopardi, la denuncia dell'orgoglio antropocentrico dell'uomo. L'uomo è una nullità, è una nullità nel cosmo, quindi non deve avere nessun tipo di appunto orgoglio antropocentrico. Poi, in tutti e due c'è questa idea dell'infinità del desiderio, che è un'infinità anche distruttiva, e in tutti e due c'è anche un po' l'idea, come dire, della prosperità, del vizio e delle sventure della virtù. Per cui, purtroppo, se uno si comporta bene, non è detto che viva anche meglio, perché la realtà ci dimostra quasi il contrario. ovviamente poi lui parla, credo citando qualcun altro, che è un Sad illibato Leopardi, cioè è Sad senza tutta la parte diciamo delle perversioni di Sad, ma questo è abbastanza ovvio. Io però ti volevo fare non un'obiezione, ma una domanda su questo. Siccome tu hai anche indagato molto il rapporto tra Leopardi e il romanticismo tedesco, non quello italiano con cui, no, non ha quasi niente in comune, ma quello nordico, sì, Novalis, Schelling e fino ad Edgar Allan Poe, eccetera. Allora, la mia obiezione e domanda è questa. Va bene, è vero, Leopardi ha molte cose in comune con Sad, però, però, lo dico brutalmente, però Sad scrive romanzi noiosissimi e invece Leopardi scrive poesie bellissime o prose poetiche bellissime. Questo che vuol dire? Che Leopardi c'è l'esistenza della poesia e questo, come dire, un po' disordina tutto il quadro di riferimento. Perché? Perché la poesia, come tra l'altro lo dice benissimo Rigoni, romanticismo nordico, la poesia comunque, comunque, la poesia che è il destino di Leopardi, è veramente la forma che assume il destino di Leopardi, la poesia comunque sia è vero che tutto è male, che ogni cosa è male, proprio quasi gnosticamente, ma la poesia è apertura al mistero e alla bellezza. La poesia comunque è intuizione di un'unità della natura che non può cogliere la ragione ma che può cogliere invece l'immaginazione o la sensibilità o il cuore. La poesia è anche come dire scoperta di un ritmo, di un ritmo segreto di tutte le cose con cui ci può essere una consonanza. Quindi, diciamo, il tuo parallelismo si regge benissimo salvo per fermarsi di fronte all'esistenza della poesia come destino in Leopardi. Ecco, tu come la vedi questa cosa? Io sono assolutamente d'accordo, ovviamente. Il mio confronto, diciamo, si limitava a questo fatto che mi aveva sorpreso, che ha sorpreso un po' tutti, che ci fosse una coincidenza addirittura verbale, proprio adverba, fra quel famoso passo di Leopardi tutto è male, il mondo è fatto per il male, e un passo della Juliette o Le Sinfortune della Vertue in cui un eroe demoniaco e libertino che si chiama Saint-Font dice un Dio esiste certamente, certamente questo mondo è stato creato da un Dio indiscutibile, però questo Dio lo ha creato per il male, nel male, a fine di male, e sembra proprio, sembra che si siano copiati. questa cosa è abbastanza sorprendente, perché non si tratta di un'analogia come dire ideale, come spesso succede, io ho scritto anche uno dei primi saggi su la finità tra Leopardi e pensieri, e la Métrie, che è un materialista francese del del Settecento, in viso agli stessi enciclopedisti per il suo, per la radicalità sconvolgente delle sue opinioni, ma in quel caso si tratta diciamo di consonanze ideali, qui la consonanza più che ideale è una consonanza proprio testuale, insomma, e quindi mi sembrava che dovesse essere rilevata, tenuto conto peraltro che molto difficilmente, io direi, forse era impossibile che Leopardi avesse tra le mani il Sade, mentre invece il Sade era capitato in mano a Foscolo all'epoca, probabilmente arrivato negli zaini dei soldati francesi, ma non credo, allora ci sono questi fatti abbastanza sorprendenti, ma come dire forse se non comuni tali insomma da riscontrarsi nella letteratura di convergenze inconsapevoli fra pensatori, scrittori molto diversi tra loro, quindi io non volevo assolutamente diciamo andare oltre il rilievo di questa sorprendente, e per quanto riguarda poi la tua osservazione sono ovviamente del tutto d'accordo, insomma non c'è niente di poetico in Sade, insomma anzi uno scrittore per certi aspetti ripugnanti, che però, no per certi aspetti totalmente ripugnanti, ma che ha un posto diciamo nella storia della letteratura e del pensiero, perché questa opera mostruosa può, anzi deve essere interpretata come una metafora, appunto una metafora del desiderio, dell'infinità distruttiva del desiderio, eccetera, insomma. Beh io adesso, un momento, poi adesso passiamo dopo a loro, ma poi alla fine diciamo vi riascolto tutti. Con te Mario però l'ultimo punto per scendere un po' dalle visioni del mondo, invece stavolta scendiamo proprio a quella che è la visione della società italiana di Leopardi, perché nel suo libro c'è anche un saggio sul famoso saggio di Leopardi sul costume degli italiani, un saggio sullo stato presente del costume degli italiani e un saggio che ha quasi due secoli, insomma, però un saggio di una attualità veramente sorprendente. Leopardi che non si può usare politicamente però lì fa una riflessione antropologica di cui secondo me le nostre classi dirigenti dovrebbero tener conto perché è di un'attualità sconcertante. Parla dell'Italia come un paese in cui non c'è società inizia così proprio, lui dice gli italiani ridono della vita incredibile, sembra la ricotta di Pasolini, vi ricordate Orson Welles e poi dice appunto che in Italia prevale proprio perché non c'è veramente società in Italia prevale il poco riguardo verso gli altri cagionato dalla mancanza di società in Italia non c'è l'abitudine e il gusto della conversazione guardate la televisione italiana è incredibile lì si capisce che la conversazione la conversazione civile non è contemplata nel nostro patto sociale cioè nel patto sociale degli italiani o c'è la rissa o c'è l'indifferenza reciproca non ci può essere il disaccordo ma civile non è proprio previsto nel patto sociale degli italiani sono pagine di un'attualità secondo me appunto straordinaria e ovviamente dice che l'Italia non è una nazione siamo poco evoluti ma e qui c'è un passaggio pure delicato perché in realtà a Leopardi piace la società primitiva con la spontaneità eccetera ma l'Italia non è nell'una e nell'altra cosa noi non siamo né più primitivi perché non lo possiamo essere ma non siamo neanche abbastanza evoluti per produrre tutti gli antidoti per produrre tutti gli anticorpi ci troviamo proprio in mezzo al guado la nostra è una modernità dimezzata quella italiana per questo è rovinosa questa modernità allora ti chiedo solo su questo ecco secondo te è un testo del genere è un testo su cui dovrebbero ragionare le classi dirigenti del nostro paese il ceto politico è un testo su cui dovrebbero utilmente ragionare o no dovrebbero ma non credo che ne abbiano i mezzi neanche intellettuali bene allora passiamo ad Antonia Paolini e Gilda Policastro chi vuole cominciare? come preferisco va bene allora cominciamo ad Antonia Antonia ormai da tre anni credo proseguiamo il discorso allora proseguiamo il discorso Antonia da tre anni scrive delle lettere diciamo di Leopardi sul sole 24 ore sono lettere certo le lettere inventate ai contemporanei ma sono lettere anche filologicamente molto scrupolose perché? perché lei le fabbrica usando le parole di Leopardi ecco quindi diciamo che riorganizza che riordina e scrive queste lettere che secondo me sono bellissime ce n'è anche una l'ultima che è stata pubblicata dal sole domenica la domenica scorsa e riguarda proprio lo zibaldone come secondo Leopardi si dovrebbe leggere lo zibaldone beh insomma abbiamo già sfiorato tanti temi ecco per esempio sulla questione ottimismo pessimismo perché poi è uno dei tormentoni inevitabili quando si parla di Leopardi ecco invece Antonia tende un po' a mettere in luce anche una dimensione diciamo vitale e gioiosa che non è quella di Davenia attenzione ecco perché quella di Davenia è veramente un po' riduttiva e secondo me un po' superficiale no certamente però rimane il mistero io questa cosa appunto la dico in modo molto forse elementare Leopardi è infelice però dice la sua infelicità in un modo felice ecco si può anche dire così e questa è una contraddizione come dire originaria cioè lui la dice l'infelicità ma in modo felice quando scrive le sue poesie Fortini diceva lì c'è il passaggio della gioia certo la gioia della creazione c'è l'amore per la vita ecco allora anche su questo Antonia se ti va ci dici un po' quello che pensi tu proprio di questo aspetto così delicato e contraddittorio e se hai voglia puoi riprendere anche la lettera di Leopardi che lei ha scritto quindi ma guarda facciamo interventi brevi poi ecco facciamo poi caso mai ti interrompo io no perché mi interessava particolarmente questo discorso sulla politica leopardiana perché sto facendo un dottorato sul patriottismo leopardiano e quindi proprio sono molto d'accordo perché Leopardi è inassimilabile e la sua posizione politica è la sua e secondo me no solo una parola su questo perché mi dispiaceva perché appunto spesso ne parlavamo prima sono stata felicissima di conoscere il professor Rigoni avevo i suoi libri in borsa e stavamo parlando proprio del fatto che Leopardi bisogna sempre scrostarlo un po' da tutte le appropriazioni perché come diceva Blasucci è il poeta e il pensatore anzi è il filosofo poeta perché egli dice che cos'è un vero filosofo un vero filosofo deve essere poeta ma non già per ragionare da poeta ma per arrivare a sentire con razionalità ciò che solo l'ardentissimo poeta riesce a sentire e infatti il problema è questo la macchina di cui parla Giacomo ma adesso ci arriviamo perché io non so parlare in pubblico perché i pensieri mi si affollano mi si accavallano insieme alla timidità e fanno una gran folla e quindi spingono tutti insieme quindi adesso li ho portato a posta il computer così vi leggo un po' di cose perché per esempio sul funzionamento del io stavo facendo un esempio sul funzionamento dell'amor patrio e dell'idea di nazione per farvi un esempio pratico nel sistema filosofico metafisico politico perché Leopardi secondo me è sempre politico è un grande filosofo ed è sempre anche politico ma non appunto giustamente come diceva il professor Rigoni è politico come dice lui cioè lui non aveva una sua posizione infatti perché se non avrebbe voluto scrivere una lettera a un giovane del ventesimo secolo perché sentiva di essere una creatura d'altra specie di essere un magnanimo poi lui era una persona vabbè qua si potrebbe fare un discorso 5-6-7 ore solo su questo problema politico eccetera e anche ho qualche idea perché Mazzino l'odiasse così tanto perché il fondamento dell'amor patrio leopardiano invece forse sarebbe giusto come diceva giustamente Filippo che i nostri politici se avessero le capacità riuscissero a penetrarlo perché Leopardi è molto complesso insomma qui ci sarebbero 700 discorsi da fare tutti insieme e uno dei motivi io ho portato qualche lettera però non c'è tempo possiamo solo sempre eternamente alludere non ho fatto delle opere ho sempre solo cominciato però per esempio nella prima lettera di queste qua di queste false lettere no la prendo solo perché avete parlato proprio l'avete toccata c'era questo scherzo che ho fatto solo per Leopardi perché io non mi metterei mai non mi metterei mai insomma perché sono timida e come dice Leopardi nello Zibaldone la timidezza è anche di chi ha paura di essere giudicato è delicatissimo e poi tutti sono su di lui e lo pungono e lui si sente male insomma per esempio ecco avevo scritto questa lettera proprio scrive a domenica una lettera rivolta ai politici e al popolo italiano e promette di spedircene altre ve le leggo un pezzettino sperando anche di divertirvi già che il divertimento è anch'esso una forma politica sottilissima e perché non volevo cambiando le parole o semplificandolo offendere i lettori perché uno deve sempre semplificare tutto no Leopardi è complesso e non va messo come un gigantesco entomologo come spesso è stato fatto anche dalla critica non la più recente perché appunto se c'è una social catena è quella dei leopardisti leopardiani almeno perché ognuno cioè Leopardi è un continente straordinariamente vasto e difficile quindi non per essere buonissima veramente servono i lavori di tutti perché non è che uno può studiare per esempio Dante Leopardi la catabasi per esempio oppure altre parti ogni studioso deve studiare bene un aspetto sempre secondo me raccordandolo al tutto leopardiano che non è mai nulla però appunto vabbè insomma non so se si è capito qualcosa però facciamo finta di sì e quindi miei cari italiani nella lettera dei 12 del marzo 17 Pietro Giordani mi scriveva che lo dilettava pensare che nel 900 sarei stato numerato tra i primi che alla patria avrebbero recuperato il male perduto suo onore avrei ben caro che questo suo pensiero dilettevole fosse vero nel 21esimo secolo solamente per esortare e rinvigorire la nostra amata Italia come scrivevo nel 15 gli antichi solevano dare alla loro patria dei consigli e a me piacerebbe oggi di fare lo stesso giacché dal 15 intendo 1815 prima ancora è bastevole che rileggiate le mie dissertazioni filosofiche del 12 solo per fare un esempio ero infiammato da un vivo amor di patria e sebbene allora fosse ancora impierregnato di un forte sentimento misogallico già detestavo ogni forma di tirannide ora riflettendo sui costumi degli italiani ritengo di poter ancora dire qualcosa di nuovo con quelle mie carte da allora mi rileggo e penso che il mio patrottismo abbia avuto uno sviluppo nel tempo come era naturale che fosse e i suoi frutti nel loro maturare forse continuano a serbare il pregio di una freschezza di una giovinezza come fossero stati conservati nella cera io stimo con qualche soddisfazione che la lettera a un giovane del ventesimo secolo che disegnavo di scrivere sia arrivata sarei pienamente espressamente ingrato se non mi sentissi più compreso dalla critica oggi di eccetera eccetera vabbè certamente dai miei tempi a questi presenti non mi pare cangiata la quasi universale estinzione o indebolimento delle credenze su cui si possano fondare i principi morali perché non contiva il suo campo chi per esso passeggia e sempre diligentemente lo osserva lasciando però le cose come stanno il secolo presente come il mio mi pare ancora un secolo di ragazzi e i pochissimi uomini che rimangono si debbono andare a nascondere per la vergogna come quello che camminava dritto in un paese di zoppi perciò che ancora oggi la conservazione della società sembra opera più del caso che d'altra cagione ancora oggi riesce veramente meraviglioso maraviglioso scusate che la possa aver luogo tra individui come diceva Filippo che continuamente sodiano si insidiano e cercano in tutti i modi di nuocersi gli uni gli altri gli italiani posseggono l'arte di perseguitarsi scambievolmente se più se abù con le parole più che alcun'altra nazione passano attenzione perché lui non è mai buonista passano si capisce no? mica non si capisce vero? spero che non vi stiate annoiando passano il loro tempo a deridersi scambievolmente a pungersi fino al sangue come altrove il maggior pregio è rispettare gli altri il risparmiare il loro amor proprio senza di che non vi può aver società illusingarlo senza bassezza il procurar che gli altri siano contenti di voi così in Italia la principale più necessaria dote di chi vuole conversare è mostrar con le parole e con i modi ogni sorta di disprezzo verso l'altrui offendere quanto più si possa il loro amor proprio e lasciarsi più che sia possibile mal soddisfatti di se stessi e per conseguenza di voi sono incalconabili i danni che nascono ai costumi da questo abito di cinismo eccetera 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 non rispettando gli altri non si può essere rispettato gli straniere e gli uomini di buona società non rispettano altrui se non per essere rispettati e risparmiati essi stessi e lo conseguono e poi lui dice ma in Italia non si conseguirebbe perché dove tutti combattono gli uni contro gli altri eccetera però lui non è mai staccato non è che dà consigli minuti quindi non dà consigli minuti sono sempre inseriti dentro questo sistema come anche lo zibaldone Chiara Montaigne che diceva in fondo i miei diari sono la mia materia sono io e quindi anche per Leopardi lo zibaldone che è questo organismo vivente combinatorio però non è appunto in cui convive la forisma ma c'è anche è stato proprio visto seguendo le sue polizine richiamate non richiamate 550 insomma tutte le altre poi insomma è molto interessante guardare come anche Leopardi sorvegliasse se stesso e generasse la scrittura man mano si faceva e pensasse ai trattati insomma c'è tantissimo da dire e ancora magari do la parola un po' a Gil e poi magari dico anche qualche altra cosa poi riprendi comunque ringrazio Antonia perché ci ha fatto quasi risentire rivivere la voce di Leopardi così viva e palpitante attraverso queste sue costruzioni artificiali insomma una cosa molto banale se si vuole ma che non sempre si osserva che questo radicale distruttore di tutte le illusioni qual è Leopardi non mi metto a fare citazioni ne salva stranamente due una diciamo ovvia che è la poesia come tu hai detto ma l'altra è proprio la patria che non è un fatto così scontato voglio dire in un nichilista quale anche lui è la parola un po' equivoca se si vuole ma è sorprendente questo fatto lui aveva un vero un vero una vera passione un vero amore un amore geloso per l'Italia le sorti dell'Italia della società italiana e questo non è affatto scontato no 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 è vero banalità però verissimo dopo aver parlato soprattutto diciamo dei contenuti dello Zibaldone abbiamo visto i contenuti filosofici i contenuti civili politici ora parliamo con Gilda Policastro un po' più della forma dello Zibaldone della struttura ovviamente poi Gilda di quello che ti pare sui temi che abbiamo sfiorato finora questa forma un po' inafferrabile dello Zibaldone Gilda Policastro vede in Leopardi lo dico molto sinteticamente quasi un antisignano dell'ibridazione dei generi che poi c'è stata nel novecento vi ricordo che i libri italiani forse più interessanti degli ultimi vent'anni non sono tanto o soltanto i romanzi ma sono proprio questi libri di confine tra i generi libri appunto ibridi io penso che i generi esistano 20-30 anni fa in Francia si diceva che i generi non ci sono c'è solo la écriture dicevano i francesi Roland Barthes ma tutto è un po' stupidaggio i generi esistono hanno i loro statuti le loro regole e per ibridarli bisogna conoscerli bisogna conoscerli averli frequentati quindi ecco chiedo un po' a Gida di parlarci un po' di questo aspetto dello Zibaldone prego grazie prima una piccola postilla quanto avete detto finora perché mi trovo un po' scettica l'idea da un lato di superare il Leopardi progressivo e la svolta del 47 che comunque negli studi leopardiani ha determinato un passaggio fondamentale dalla idea di un Leopardi legato soprattutto agli idilli e a un atteggiamento verso la vita piagnone diciamola molto banalmente a un Leopardi che è il Leopardi eroico di Binni quindi la nuova poetica leopardiana segna indubbiamente una svolta non dobbiamo pensare evidentemente al progressivo con così contaminandolo con la con la categoria politica contemporanea e d'altra parte poi però vogliamo a tutti i costi un Leopardi vitaminizzato un Leopardi in qualche modo esaltato ed esaltatore degli animi quasi un conservatore delle illusioni ecco Leopardi è molto chiaro è molto diretto è molto esplicito non il pensiero che richiamava poco fa Rigoni che inizia con tutto è male che è un pensiero del 1826 che è quasi diciamo il cuore dello Zibaldone è un pensiero drastico e definitivo ed è un pensiero che non lascia scampo non lascia nessuna possibilità a un atteggiamento volontaristico a un atteggiamento ottimistico che era quello che poi De Sanctis voleva a tutti i costi vedere Leopardi e poi stiamo facendo dello Zibaldone qualcosa di troppo coerente lo Zibaldone è un'opera asistematica è un'opera filosofica certamente ma di una filosofia non sistematica anche laddove si presenti come tale ad esempio nel nucleo che possiamo con Leopardi definire la teoria del piacere o appunto i pensieri relativi alla società hanno quelle contraddizioni che sono state più volte messe in evidenza dagli studiosi che restituiscono allo Zibaldone la sua autentica dimensione di libro provvisorio di scartafaccio perché lo cogliamo non tanto dallo stile che è uno stile a volte molto elevato come nel pensiero da cui forse riuscirò a leggere qualche passaggio appunto il pensiero che inizia con tutto e male il 4174 ma lo comprendiamo comprendiamo questa natura incompiuta dal carattere provvisorio di alcune di queste annotazioni che contengono le famose abbreviazioni eccetera che Leopardi non avrebbe mai evidentemente conservato per un'opera destinata alle stampe che cos'è lo Zibaldone fondamentalmente lo Zibaldone è un tavolo di lavoro è un tavolo di lavoro in cui Leopardi riflette sull'esistenza non è un diario intimo non è il nostro facebook che si chiama diario non per caso è un libro in cui appunto Leopardi riflette su tanti aspetti dell'esistenza alcuni li ho nominati c'è una riflessione insistita sul rapporto tra antichi e moderni un dialogo ininterrotto con i filosofi antichi e moderni e è un tavolo di lavoro in cui i nuclei dell'opera di Leopardi diventano in qualche modo vengono messi a prova ed ecco che diventa anche un'altra cosa diventa una specie di palinsesto in cui possiamo rintracciare delle suggestioni dei motivi che poi come anticipava Filippo ritornano nei canti e nelle operette e tra i tanti esempi possibili mi viene in mente il cosiddetto da me propriamente sondaggio sondaggio dello Zibaldone che a un certo punto nel 27 Leopardi fa innanzitutto ponendo una domanda a se stesso e poi ai suoi amici volendo potendo anzi vorreste rivivere la vostra vita così come l'avete vissuta con gioie e dolori così come si è data fino al momento in cui appunto la domanda viene posta perché quando diciamo la vita e questo poi sarà un motivo tanto del dialogo del fisico e del metafisico che del dialogo del venditore di Almanacchi la vita quando pensiamo alla vita e alla possibilità di riviverla pensiamo alla vita felice non alla vita in sé ma appunto se dovessimo rivivere la nostra vita con gioie e dolori la risposta tanto di Leopardi che dei suoi amici è una risposta negativa e non può essere che tale il pensiero negativo il pensiero nichilista il pensiero materialista fondamentalmente attraversa tutto lo zibaldone e così si concentra sulla riflessione legata al male tutto è male tutto tende al male e persino il luogo deputato tradizionalmente alla così all'esaltazione della bellezza della gioia di vivere come il giardino il locus amenus di tutta una tradizione letteraria è in realtà il luogo in cui si dimostra che la natura pone sotto assedio le sue creature dalle più minute dai fili d'erba ai fiori a tutto ciò che dovrebbe rendere appunto piacevole e bello il giardino tutto diventa assedio tutto diventa fastidio troppo caldo troppo secco troppo umido troppo freddo e questo giardino diventa alla fine di questo lungo pensiero retoricamente elaboratissimo una specie di ospedale o addirittura un cemeterio ecco teniamo da parte un momento questa riflessione spietata sull'esistenza e arriviamo allo zibaldone il motivo su cui Filippo mi sollecitava come archetipo dei diari di alcuni autori del novecento in particolare ho pensato a Pavese e a Morselli Pavese scrive il mestiere di vivere come a tutti noto dal 35 l'anno del confino in Calabria all'anno della morte e anche il mestiere di vivere è una sorta di zibaldone sia pur compresso contenuto e funziona analogamente allo zibaldone come tavolo di lavoro e come palinsesto ed è interessante notare che Leopardi nell'opera di Pavese è molto presente ma nel mestiere di vivere in particolare lo zibaldone non sembra essere un archetipo un antecedente e laddove Pavese è curioso che laddove Pavese cita Leopardi nel mestiere di vivere lo rende quasi irriconoscibile ai lettori di Leopardi non ritroviamo i Leopardi a cui siamo abituati a pensare e quando invece si tratta di un Leopardi più vicino alla vulgata ad esempio in un pensiero mi pare del 38 in cui Pavese dice siamo nati più o meno veniamo al mondo per morire aggiunge si sente in dovere di aggiungere non diceva Leopardi ecco perché non diceva perché appunto il suo Leopardi è un Leopardi riadattato alla propria poetica è un Leopardi che diventa è un Leopardi che si arresta poi a una fase giovanile quella in cui Leopardi crede nella 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 ribellione nel ribellismo degli eroi antichi rispetto al fato pensiamo a Bruto Minore pensiamo a Saffo e dice a un certo punto Pavese nel mestiere di vivere abbiamo ancora ragazzo ragazzo abbiamo ancora le illusioni giovanili e la maschera che rende diciamo simili questi due autori che li accomuna è Saffo e curiosamente in questo caso il mestiere di vivere fa una specie di triplo di triplo salto nel senso che Pavese riprende un pensiero dello Zibaldone e ne fa il motivo generatore di uno dei dialoghi con Leuco l'opera a cui Pavese teneva maggiormente l'opera in cui il famoso motivo classico dell'Oftonosteon dell'invidia degli dei diventa l'invidia da parte degli dei nei confronti dei mortali che forse hanno la possibilità di essere felici nel dialogo schiuma d'onda in cui troviamo appunto la ninfa Brito Marti e Saffo Pavese riprende quasi alla lettera il pensiero dello Zibaldone del 1821 in cui Leopardi parla dell'infelicità dell'amante non corrisposto il dialogo di Pavese inizia in un modo un po' diciamo sarcastico che Saffo fosse lesbica di lesbo è certo penoso però è più penoso ancora lo scontento per la vita che la indusse a tuffarsi nel mare nel mare di Grecia in questo dialogo c'è appunto la metafora ripresa direttamente dallo Zibaldone dell'amante infelice dell'amante non corrisposto che è diciamo la schiuma che si infrange contro contro lo scoglio e Pavese aggiunge tragicamente altre volte sei scoglio tu stesso nulla ha mai pace ecco nulla ha mai pace è un eco forse un po' alla lontana ma è un eco di tutto e male Morselli posso arrivare a Morselli ah proprio 30 secondi Morselli scrive il suo diario nella sua fase produttiva quindi mentre scrive i saggi e mentre scrive i romanzi poi tutti postumi come è noto e il diario ha una struttura abbastanza simile a quella del mestiere di vivere anche in questo caso è una raccolta di pensieri di vario argomento la gioia il dolore il piacere la compassione il caso soprattutto il caso che poi ritorna nella saggistica di Morselli dove appunto ci si pone il problema dell'esistenza come casualità nulla ha uno scopo dice Morselli e Leopardi non è quasi mai citato a differenza che nei saggi ad esempio la felicità non è un lusso dove saggio che si chiude proprio con una menzione del Leopardi filosofo superiore ai filosofi ai moralisti e non è citato non di meno è impossibile non sentire Echi di Leopardi nei pensieri di Morselli ad esempio sulla superficialità del piacere il piacere ci sfiora mentre la sofferenza il male si radica dentro di noi è impossibile non sentire l'eco di Leopardi quando Morselli progetta di scrivere una specie di trattato sui costumi e sui difetti nazionali degli italiani è impossibile non sentire l'eco di Leopardi quando Morselli scrive in un appunto che già da Paolo Di Stefano era stato considerato una premonizione del suicidio tutto è inutile un appunto che inizia in questo modo e si chiude con tutto è ugualmente inutile un pensiero diciamo una chicca che vi voglio lasciare poi magari è una mia così congettura del tutto infondata però c'è un pensiero del diario di Morselli in cui la riflessione molto lunga si tratta di un pensiero del 69 piuttosto lungo e articolato la riflessione sulla condizione tragica dell'esistenza si conclude con una bizzarra similitudine dice noi siamo come le piante del mio vicino il mio vicino cura le piante e quelle che scampano alla sua cura e che quindi vengono sacrificate scampano alla sua cura del tutto occasionalmente e aggiunge fortunate sono le mie piante invece perché evidentemente aveva una maggior magnanimità e una maggior capacità di conservazione io ho visto in questo pensiero un eco anche se forse molto alla lontana del pensiero sulla souffrance in cui appunto il giardino è il banco di prova della sofferenza e della condizione umana perché poi appunto tu dicevi all'inizio il pessimismo il pessimismo che è veramente una categoria che andrebbe bandita proprio sin dalle elementari dovrebbe essere vietato parlare di pessimismo si tratta di una lucida coscienza della condizione umana e dove tu dici Leopardi è infelice però nel suo racconto dell'infelicità ci rende felici è un po' e desanctis un po' e purtroppo ancora una volta da venia se leggiamo lo zibaldone non solo ci rendiamo conto che Leopardi non era infelice ma lucido ma poi che non è infelice non ci parla della sua infelicità ma dell'infelicità della condizione umana se non ci piace sentircelo dire andiamo a sentire un concerto di Vasco Rossi e va bene va bene così senza parole senza parole se invece vogliamo leggere lo zibaldone purtroppo apprendiamo che tutto è male che tutto volge al male che il non essere questa è la conclusione tragica del pensiero del 1826 è da preferire all'essere certo io tra l'altro ti ringrazio vi posso sollecitare no 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 d'accordo infatti allora no mi chiedo scusa al pubblico e a Donatella di Pietrantonio comincerà con 20 minuti di ritardo l'incontro successivo perché abbiamo cominciato questo in ritardo per alcune ragioni logistiche quindi questo vi chiedo scusa e abbiate pazienza su queste cose perché ovviamente queste sarebbero già il punto di partenza di un'altra discussione però io mi permetto di chiedervi un parere su una cosa poi dite anche la vostra però vi chiedo veramente di essere molto sintetici in quest'ultimo giro di opinioni c'è un passo dello Zibaldone 3241 in cui Leopardi dice che la natura è ordinata a un effetto poetico ma non la natura nelle sue parti prese separatamente e né la natura esaminata dalla fredda ragione ma la natura nella sua unità lui la chiama università e in un modo che questa cosa sia percepita appunto dall'immaginazione quindi come dire esiste una nostra facoltà che ci mette in contatto con il poetico della natura allora io in tutto questo cosa ci vedo io ci vedo comunque sia comunque vogliamo giudicarla un primato dell'esperienza sul concetto cioè io ho l'impressione che Leopardi si mette dalla parte lui dice che la vita deve essere esperita Leopardi si mette in questo secondo me anticipa un motivo dell'esistenzialismo e di Camus lui dice che afferma secondo me un primato dell'esperienza sul concetto afferma un primato dell'esistenza sulla filosofia e difende il valore dell'autenticità c'è un brano adesso non lo ritrovate in cui lui contrappone a tutto quanto il valore dell'autenticità ecco allora vi chiedo a voi un parere anche sintetico su questo nel senso che a me sembra che questa sia una delle tante come dire uno dei lasciati preziosi di Leopardi l'idea di un primato dell'esperienza la quale sempre secondo me si ribellerà a qualsiasi tentativo di inquadrarla di normalizzarla di disciplinarla dentro categorie univoche ecco allora vi chiederei una cosa su questo e poi sintetici prego io voglio rispondere a questo ma insieme appunto vorrei rispondere perché come Gilda giustamente ha detto che non era d'accordo con quanto si era detto in una maniera un pochino polemica cioè sì perché dicendo la svolta del 47 allora parlare di Bini Luporini allora vogliamo fare un'ora perché non è che anche loro non hanno detto questo cioè tagliare tutto in una battuta non è onesto cioè la svolta del 47 allora se proprio lo vogliamo dire lo stesso Luporini ha credo nell'articolo dell'82 del 90 e poi anche in decifrare Leopardi ha smentito se stesso dicendo che lui intendeva dire progressivo con progressivo intendevo dire ciò che deve avanzare egli stesso ha parlato di un nichilismo attivo adesso non è che voglio difendere Luporini però non voglio neanche che tu ci dica che noi tre abbiamo detto delle bestialità insomma trattandoci un po' male no poi per quanto riguarda scusa io sono sincera tu mi sei simpatica però non sono d'accordo con quello che hai detto scusa no contestualizzato dicendo che noi tre siamo tre scemi che te l'abbiamo detta così e non è così scusa cioè uno deve essere anche rispettoso delle persone con cui parla quindi io invece essendo rispettosa di te no io mi arrabbio perché sono come Leopardi come mi stai simpatica però mi ha dato fastidio sta cosa e te la dico in faccia scusa poi per quanto riguarda le altre cose non sono d'accordo per niente tanto per cominciare con tutto è male adesso ve lo sorbite scusate però guardate perché non è che noi siamo da Venia e diciamo le cose così casomai citiamo Ennio citato da Cicerone in Leopardi 2433 quando lui parla della vita vitale e no e scusa allora tutto è male cioè tutto quello che è male che ciascuna cosa esiste è male ciascuna cosa esiste per fin di male l'esistenza è un male ordinato al male il fine dell'universo è il male l'ordine e lo stato le leggi l'andamento dell'universo non sono altro che male né diretti all'altro che al male scusa sono pure un po' nervosa perché non sono bene scusa Antonio Antonio una sola cosa però perché questo pensiero finisce non con tutto è male ma finisce questo sistema che tutto è male eccetera che l'esistenza per sua natura è senza propria generale un'imperfezione un'irregolarità una mostruosità e questa imperfezione è una piccolissima cosa è un veroneo perché tutti i mondi che esistono lui è sterminato tutti i mondi che esistono per quanti e quanto grandi che si siano non essendo però certamente infiniti né di numero né di grandezza qua vogliamo dire che ha anticipato Einstein come in altri punti dello Zibaldone ha anticipato Heisenberg ha anticipato Gödel ma se ne potrebbe parlare per 4-5 ore questo sistema quindi che l'universo potrebbe essere se fosse infinito e il tutto esistente infinitamente piccolo a paragone dell'infinità vera e per così dire del non esistente del nulla questo sistema benché urti le nostre idee che credono che il fine non possa essere altro che il bene sarebbe forse più sostenibile di quello del Leibniz del pop eccetera che tutto è bene non ardirei però a estenderlo a dire che l'universo esistente è il peggiore degli universi possibili sostituendo così all'ottimismo il pessimismo chi può conoscere i limiti della possibilità va bene va bene allora no scusate però scusate una cosa no va bene ma si non cominciamo però intervini pure dal pubblico perché no meglio di no allora no abbassiamo i toni scusa Antonia abbassiamo i toni perché sennò diamo ragione a Leopardi che in Italia non siamo capaci di fare una conversazione ecco cioè Leopardi ci ha scritto un saggio 150 anni fa quindi vi prego vi prego allora prima Gilda e finisce Mario Rigoni non per ragioni anagrafiche però no io direi prima Gilda e poi Mario e poi concludiamo l'incontro perché effettivamente preme l'incontro dopo prego Gilda qual'era la domanda a cui dovevo rispondere? il primato dell'esperienza è una cosa che minimamente ti interessa ti suggestione al suo primato dell'esperienza comunque sui concetti filosofici questa cosa qui non so se sia veramente così poi c'è sempre quando appunto si parla di Leopardi c'è sempre da distinguere tra vita e esistenza a me interessa molto la sua riflessione aridamente crudamente lucidamente materialistica sull'esistenza l'operetta della natura e l'islandese la conoscete tutti lo scopo della natura è quello di perpetuare l'esistenza poi del singolo esistente io non me ne avvedo vi faccio soffrire vi faccio stare bene non me ne avvedo e non me ne avvedo come molto opportunamente ha richiamato Emilio Russo nel libro che si presenterà domani qui credo no? ridere del mondo è anche una formula non me ne avvedo cara Leopardi che la utilizza poi nell'epistolario la utilizza in una lettera per così difendersi dai primi attacchi che venivano rivolti alle operette anche dalla censura che in qualche modo le colpì io non me ne avvedo se il mio pensiero viene recepito come negativo non me ne avvedo chiaramente anche qui c'è molta ironia perché se ne avvedeva e come ecco per me appunto il centro ideale delle operette non solo per me evidentemente anche per gli studiosi resta la natura dell'islandese in cui il materialismo è proprio al suo culmine e così il pensiero sul giardino il pensiero sulla souffrance che finisce con l'immagine del cemeterio restano il punto diciamo di non ritorno ecco c'è poco da stare allegri non direbbe da venia allora Mario che tra l'altro ha usato una categoria che sembra quasi un ossimoro perché a proposito di Leopardi ha parlato di materialismo romantico già questo è un comunque di te concludi tu allora non so ci sono dette molte cose sul materialismo romantico posso dire due cose molto rapidamente questa formula che ho adottato diciamo che è come tutte le formule ai limiti che sono propri tuttavia mi sembra che colga appunto una specie di essenza dell'atteggiamento leoparadiano che da un lato è totalmente rigorosamente materialistico senza possibilità di discussione perché in un pensiero che credo di citare la lettera dice noi non possiamo non solo conoscere ma neanche concepire alcunché che sia al di là della materia quindi non c'è discussione possibile perché poi è romantico perché questo materialista irriducibile rivolge interrogativi alla luna e compone un inno siderale alla bellezza della donna che non si trova ma al di là di questa osservazione che tutti possono fare io ho cercato di mostrare anzi ho mostrato perché insomma i documenti sono lì che per un interessante paradosso partendo da posizioni assolutamente e indefinibilmente materialistiche Leopardi arriva insomma inconsapevolmente perfino a una coincidenza ideale su temi capitali come quello della poesia come creazione non più come imitazione quale era stata concepita da Aristotele fino al settecento sull'idea del carattere poetico della natura che è una concezione che va da Schelling a Poe su l'illegittimità dei generi letterari e qui addirittura lui poi voglio dire anticipa cose che Croce dicevamo l'altro giorno non sapeva che già esistevano i Leopardi quando diciamo le affermava e si affermava come il teorico l'idea dell'autonomia della poesia insomma cose infinite tutte queste cose coincidono con il pensiero dei protoromantici tedeschi degli Schlegel e di altri che hanno una visione opposta dicono in sostanza le stesse cose solo che loro credono ancora alla dialettica cioè sperano ancora un recupero del perduto dell'antichità dell'immaginazione eccetera sul piano della riflessione che invece in Leopardi manca ma non come un difetto come diceva Luporini manca perché capiva che la dialettica insomma è una finzione beh no scusa solo una cosa di Leopardi alla pagina 4090 no l'uomo sarebbe onnipotente se potesse essere disperato tutta la vita o almeno per lungo tempo cioè se la disperazione fosse un abito che potesse durare questo volevo dire non è che dico che non ci sia la posizione del 24 eccetera ma che Leopardi si muove perché con l'ultrafilosofia i termini sono chiari l'ultrafilosofia avrete capito che il pensiero di Leopardi è un pensiero fortemente e felicemente contraddittorio perché è un pensiero in movimento questa cosa si capisce benissimo leggendo lo zibaldone io ringrazio tra l'altro ancora una volta gli ospiti Gilda Pollicasto Antonio Paolini Mario Rigoni e quindi diffidate di ogni pensiero mi permetto di darvi un suggerimento spero di non essere troppo pedagogico diffidate di ogni pensiero che sia molto coerente molto consolatorio ma desolatamente statico grazie 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 grazie